Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. A Ballando con le stelle, la tensione è salita alle stelle dopo l'esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Il loro paso doble, eseguito dalla conduttrice pugliese e dal ballerino palermitano, non ha trovato il favore di Guillermo Mariotto, che ha criticato duramente la performance. Lo stilista venezuelano ha commentato con ironia, Giovanni Pernice è venuto da Londra per portarci questi paso doble antiquati come il cucco. Posso finire di giudicare? Grazie. Queste parole hanno provocato la reazione immediata di Pernice, visibilmente infastidito, giudica pure, ma non con offese. Accetto critiche di ogni tipo, ma il rispetto è fondamentale, forse non lo conosci. Mariotto, per nulla intimidito, ha ribadito il suo giudizio, definendo la performance vecchia e noiosa, e aggiungendo che mancava completamente di emozione. Ha poi lanciato una frecciata, chiedendosi se fosse la serata dell'emozione o delle chiacchiere sottolineando che non era rimasto colpito. Il confronto acceso tra Mariotto e Pernice ha scaldato ulteriormente il clima in studio, lasciando il pubblico diviso tra sostenitori del giudice e del ballerino.